Noi in questo momento sappiamo che dobbiamo cercare di insediare nei nostri territori il prezioso capitale politico che il partito a livello nazionale è riuscito ad accumulare in questi mesi di emergenza, dando una risposta coerente e credibile alla crescente domanda di protezione delle persone di fronte alla pandemia. Per far questo credo che sia fondamentale lavorare su tre parole d'ordine, lavoro, sicurezza e dignità. Queste le tre parole d'ordine con cui Giovanni Zorzi inaugura il suo secondo mandato da segretario del Partito Democratico in provincia di Treviso, candidatura unitaria alla sua confermata dalla proclamazione a Conegliano, centrali soprattutto nella marca i temi del lavoro e dell'economia. Abbiamo una ripresa che si sta basando su quello che è un aumento del precariato tra i giovani, abbiamo il dramma di artigiani e imprenditori che si trovano a riavviare la loro attività con il caro bollette, e quindi con il rischio di chiusura. Abbiamo la piaga del caporalato e la tremenda strage sui luoghi di lavoro, il tema della sicurezza del lavoro per noi è centrale, per non parlare poi degli ultimi dati che danno la provincia di Treviso tra le peggiori in termini di discriminazione salariale di genere. Altro capitolo, quello sanitario, con la richiesta di aprire un confronto sull'ULS unica e quindi sul piano sanitario regionale. L'ULS 2 è una delle più grandi, forse la più grande in Veneto, e probabilmente è troppo grande per governare i processi in modo efficiente ed efficace. Questo si è visto anche in termini di programmazione del personale, soffriamo una pesantissima carenza di personale medico-infermieristico. All'orizzonte le amministrative 2022, nella marca 17 i comuni al rinnovo, tra le sfide Silea e Casale. Qui il messaggio a possibili partner è chiaro, nessuna ambiguità serve un'alternativa, dice Zorzi, a quello che definisce blocco sovranista. Noi rivolgiamo un appello alle forze politiche e civiche del mondo liberale e moderato. Siamo a disposizione, già a partire da queste prossime elezioni amministrative, a costruire insieme una proposta innovativa di cambiamento possibile, che sia all'altezza delle aspettative di chi, come i giovani, le famiglie, le imprese, cerca dalla politica risposte concrete e responsabilità.